Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di albicocca e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, yogurt all'albicocca, olio di semi di arachidi, granella di mandorle, scaglie di mandorle, marmellata di albicocche, lievito, albicocche tagliate a metà, vanillina e cannella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, le uova, l'olio, lo yogurt all'albicocca. la granella di mandorle, il lievito, la vanillina e la cannella. ed azioniamo il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 5. Versiamo il composto in uno stampo del diametro di 24 centimetri ben imburrato. Posizioniamo sulla superficie le albicocche. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40 45 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Spennelliamo la superficie con la marmellata di albicocche. Spolverizziamo con le mandorle a lamelle. Torta di albicocche e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta! La torta di albicocche e mandorle. Grazie a tutti! Grazie a tutti!